C'è un'altra realtà parallela, non meno complessa e difficile, legata al dramma della guerra provocata in Ucraina dall'invasione russa che ci riguarda direttamente, coinvolge anche le nostre realtà, pure in Calabria. È la problematica relativa all'emergenza dettata dalla guerra che sta facendo arrivare nel nostro paese migliaia di profughi. Il supporto concreto da dare alle popolazioni colpite non è solo legato al sostentamento e all'accoglienza, ma anche riferito alle procedure da seguire per quanti attualmente vivono in Italia, pur coltivando il sogno di ritornare nella propria patria finita la guerra. Sono molte le associazioni di volontari che si adoperano in questo senso. La provincia di Vibo Valencia ha ospitato in questi giorni il console generale ucraino Maxim Kovalenko, impegnato ad assolvere le necessarie incombenze anche di tipo burocratico. Nella sede di Tropea sono stati completati diversi documenti per i cittadini ucraini, tra i quali passaporti, nulla osta, atti notarili. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di alcune associazioni come Sguardo Amico, preceduta da Marco Pelagi con Victoria Puzdoronovska, progettista dei fondi UG e finanze agevolata. Un impegno importante per dare usilio e sostegno ai tanti ucraini che attualmente vivono in Calabria. Calabria che ha ospitato a Tropea e a Ricadi il console ucraino che ha la sua sede a Napoli. Prima di tutto grazie mille per tutta l'autorità locale, tutta l'autorità della città di Tropea, tutti i cittadini per aiuto, assistenza e sostegno dei nostri cittadini ucraini, nostra comunità anche profughi ucraini e grazie della nostra associazione Squadro Amico per il sostegno, per l'assistenza dei cittadini ucraini, chiediamo di provvedere in aiuto, assistenza dell'autorità locale, del comune di Tropea, comuni tutti che si trovano vicini, per i finanziari del nostro associazione. Si chiama non solo il nostro ma anche l'italiano perché ci sono da tanti italiani che aiutano i nostri cittadini ucraini e grazie di nuovo a voi perché siamo insieme, non esiste per il nostro paese le città piccole o grandi, tutte le città sono grandissime perché avevano cuore grande. È un servizio molto importante anche perché molti ucraini sono qua nelle nostre zone, tra Tropea, Santa Domenica, ma vengono pure da Cosenza, da Crotone. Essendo a Napoli il Consolato appunto noi diamo un supporto in tutti i sensi, anche per dare comunque permesso a fare permessi di soggiorno, fanno nulla osta, fanno vari documenti che comunque servono. Importante è l'impegno di associazione come Sguardo Amico che con la loro azione hanno permesso una concreta integrazione anche sociale e lavorativa degli ucraini presenti in Italia. Tanti sono scappati dalla guerra, la maggior parte. Poi la cosa buona è che noi tra le tante attività che noi facciamo, facciamo anche lezioni di italiano per i profughi e grazie a questo noi abbiamo avuto la possibilità di inserirli in villaggi, ristoranti, grazie a questo hanno potuto avere un lavoro, un mestiere, in modo da poter andare avanti e integrarsi nella nostra società. Un momento particolare si è vissuto quando nella sede di Tropea è giunto il poeta vibonese Gianluca Rubino che ha omaggiato il console del suo libro Effatà, raccolta di versi sulla guerra pensando proprio al dramma in Ucraina.